Ciao a tutti e benvenuti su Dentro la Scatola per una nuova recensione. Il titolo di cui vi parlo oggi è Oh My Goods, gioco da 2 a 4 giocatori della durata indicativa di 40 minuti 1 ora partita. In Oh My Goods i giocatori rivesteranno i panni di lavoratori che dovranno sviluppare una serie di risorse e metterle a frutto per creare le catene produttive più efficienti. Chi riuscirà a farlo nel migliore dei modi si aggiudicherà il maggior numero di punti vittoria. Ci troviamo di fronte a un gioco in cui i componenti si riducono a un mazzo di 110 carte. Ma non lasciatevi trarre in inganno dalle dimensioni ridotte della scatola e dai pochi componenti perché Oh My Goods è un gioco più profondo di quello che a prima vista sembrerebbe. Ma senza indugiare oltre direi di andare a vedere insieme come si gioca e poi ci ritroviamo qua per il giudizio finale. Ma prima, sigla! In Oh My Goods ogni carta può essere giocata come un edificio, come una risorsa o per rappresentare il bene prodotto da un edificio. Ogni giocatore inizia la partita con un edificio bruciatore di carbone nella versione italiana e un singolo lavoratore di cui si può scegliere il genere anche se questo non influisce in alcun modo sulle meccaniche di gioco. Vengono poi scelte casualmente 4, 5 o 6 carte assistente a seconda che si giochi in 2, 3 o 4 giocatori. Queste rappresentano lavoratori addizionali che i giocatori potranno acquisire nel corso della partita. Infine, ogni giocatore riceve una mano iniziale di 5 carte pescate casualmente dal mazzo e 7 carte risorsa vengono piazzate sul suo edificio iniziale. Queste rappresentano le unità di carbone di cui disporrà all'inizio della partita. In Oh My Goods ogni edificio può produrre infatti un particolare tipo di risorsa o, se si tratta di un edificio grigio, fornire una qualche abilità speciale utile al giocatore. Ma procediamo con ordine. Oh My Goods si divide in un numero variabile di round ognuno diviso in 4 fasi. In questa fase il giocatore può decidere di scartare la sua intera mano e di pescare un numero corrispondente di carte. Dopodiché ogni giocatore pesca due carte addizionali dal mazzo. In questa fase vengono rivelate carte dal mazzo fino a che non si rivelano due carte con il simbolo del mezzo sole. Le carte rivelate rappresentano il pool comune di risorse disponibili per la successiva sottofase produzione di quel round. A questo punto i giocatori guardano la propria mano e decidono qual'edificio costruire per quel round. Prendono l'edificio scelto e lo piazzano di fronte a loro a faccia in giù. L'edificio verrà rivelato e il suo costo pagato nella successiva sottofase di costruzione. In alternativa un giocatore può decidere di assumere un assistente ma solo se può pagare il costo mostrato a sinistra. In questo caso per pagare questo assistente il giocatore deve possedere due edifici rossi. I giocatori assegnano poi il proprio lavoratore insieme ad eventuali assistenti ai propri edifici. Uno per edificio Solo gli edifici cui è stato assegnato un lavoratore o un assistente produrranno in quel turno ma a condizione che le risorse necessarie alla produzione siano disponibili fra quelle pescate all'inizio della fase. In questa fase vengono rivelate nuove carte dal mazzo fino a che non si rivelano altre due mezzi soli. In questa fase i giocatori controllano che le risorse necessarie per la produzione degli edifici a cui hanno assegnato precedentemente uno dei propri lavoratori siano presenti al centro del tavolo. Eventuali risorse mancanti possono essere pagate scartando carte dalla propria mano. Per esempio in questo caso per costruire il carbone ho bisogno di due pietra e uno legname. Nel pool comune però non c'è pietra c'è solo uno di legname avrò quindi bisogno di due pietre addizionali per riuscire a costruire un'unità di carbone. Fortunatamente nella mia mano dispongo esattamente di due unità di pietra quindi se lo desidero posso scartarle entrambe e produrre un'unità di carbone sul mio edificio. Se l'edificio ha prodotto almeno una risorsa come in questo caso si attiva anche il suo effetto catena di montaggio. Questo mi permette di scartare beni dalla mia mano o presenti su altri edifici per produrre ulteriori risorse. In questo caso non dispongo di edifici addizionali ma posseggo un'unità legname nella mia mano che scarto per produrre un'unità addizionale di carbone. Edifici più avanzati richiedono di scartare beni che sono producibili soltanto su altri edifici per attivare le proprie catene di montaggio. Le risorse di base sono rappresentate da dei quadrati mentre le risorse prodotte da altri edifici sono rappresentate da ingranaggi. Possiamo vedere qua che un'unità di carbone mi dà solo uno di oro mentre un'unità di carne mi dà sette di oro e una finestra mi dà cinque di oro. Per produrre finestre e carne attraverso la catena di montaggio è richiesto però l'utilizzo di beni producibili soltanto su altri edifici. Per la produzione della carne avrò per esempio bisogno di bovini che sono producibili solo su questo edificio. Ma a cosa serve il denaro? Beh, a costruire edifici! Terminata la produzione ogni giocatore rivela infatti l'edificio giocato nel corso della fase alba e ne paga il costo riportato in alto a sinistra sulla carta. Per farlo deve scartare dai propri edifici un numero di beni dello stesso valore dell'edificio in costruzione. In questo caso il costo del mulino è 4 e dovrò scartare 4 carbone. Se avessi un bovino potrei scartare un bovino e un carbone. Oltre ad offrire nuove opzioni per le future fasi di produzione i nuovi edifici valgono ognuno un numero variabile di punti vittorie. Si continua così fino a che un giocatore non piazza il suo ottavo edificio pagandone ovviamente il costo relativo. A questo punto si finisce il round in corso e se ne gioca ancora uno al termine del quale tutti gli edifici dei giocatori attivano la propria abilità catena di montaggio dando la possibilità a ognuno di accumulare grandi quantità di punti vittoria e mandare a profitto le risorse non spese nel corso dei round precedenti. Infine si passa al calcolo del punteggio si sommano i punti vittoria conferiti da edifici e assistenti e a questi si aggiunge il valore dei beni non spesi diviso per 5 chi ha più punti è dichiarato il vincitore. E questo era Oh My Goods un gioco che ho acquistato aspettandomi moltissimo e che devo dire inizialmente mi aveva un pochino deluso giocandolo e rigiocandolo e anche implementando alcune modifiche delle house rule a cui accenderò fra poco è andato un po' migliorando anche se ho ancora diverse perplessità sul titolo. Una delle prime perplessità riguarda la scalabilità il gioco è da 2 a 4 giocatori e in effetti è scalabile se giudichiamo semplicemente le meccaniche di gioco nel senso si gioca a 2 come si gioca a 3 come si gioca a 4 il problema è che in 3 e in 4 il gioco si allunga davvero eccessivamente nonostante i turni siano in contemporanea almeno questa è la mia esperienza personale quindi io io lo apprezzo soprattutto come gioco a 2 giocatori giocando in 2 il gioco dura tranquillamente una mezz'ora se sapete cosa state facendo quindi magari le prime partite vi durerà verso anche l'ora anzi la mia prima partita ne è durata un'ora e mezza però poi va migliorando con il tempo il divertimento in All My Goods sta tutto nel saper creare sapientemente combinazioni fra i vari edifici produttivi e quindi creare delle catene di montaggio che danno luogo a un sacco di punti vittoria e in ciò non ci sarebbe niente di male se non fosse per un piccolo particolare l'elemento fortuna tende a rovinare la maggior parte delle strategie di lungo periodo al contrario infatti di titoli similari come Gloria a Roma o Race for the Galaxy qui il numero di carte che ci troveremo a vedere nel corso della partita è relativamente limitato e quindi potrebbe capitare che vi ritroviate con una strategia perfetta ma non vi arrivi mai la carta che vi serve per metterla in atto al contrario dei titoli appena citati però qui non avete molte alternative non potrete tanto cambiare strategia in corsa e in molti casi sarete obbligati semplicemente a accettare la sfortuna e semplicemente a accontentarvi di meno punti vittoria e di una catena produttiva meno efficiente in no my goods le strategie possibili sono sostanzialmente due la strategia numero uno consiste nel costruire il più velocemente possibile edifici di basso costo in modo da far terminare la partita velocemente e non permettere al proprio avversario di sviluppare catene di montaggio efficienti la seconda strategia consiste appunto nello sviluppare catene di montaggio efficienti il problema è che se provate a farlo e il vostro avversario utilizza l'altra strategia nel 90% dei casi vincerà lui e non voi a meno che non siate fortunati con le carte questo perché una strategia che si basa sullo sviluppo di catene di montaggio efficienti richiede più tempo per essere sviluppata e dipende maggiormente dalla fortuna nella pesca delle carte il risultato è un titolo con un forte potenziale strategico purtroppo appiattito da questa strategia binaria che in un caso vi porta a vincere molto spesso e nell'altro vi porta a vincere se avete fortuna nella pesca o se il vostro avversario decide anche lui di sviluppare la tua stessa strategia questo è davvero un peccato perché il gioco ha molto potenziale io ho implementato una piccola modifica nella regola di pescaggio delle carte che attutisce leggermente l'elemento fortuna e quindi rende il titolo un po' più giocabile soprattutto l'altra strategia diventa un po' più fattibile con questa modifica chi fosse interessato può trovare la variante in descrizione al video per quanto riguarda artwork e materiali siamo nella media mentre invece è validata l'iconografia usata sulle carte che permette di riconoscerne le varie funzioni a una semplice occhiata decisamente altro pregio è il prezzo qui siamo intorno ai 10 euro che è un prezzo molto inferiore rispetto a giochi similari insomma un gioco senza infamie e senza lode vi consiglio di provarlo prima di procedere all'acquisto e magari lasciate un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate del gioco e vi ricordo anche che potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati quando carichiamo un nuovo video e con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti